Quando nel 1984 fu proposto a Mamoru Oshii di curare di nuovo un film di Lamu, mai ci si sarebbe potuti aspettare che all'epoca sarebbe stato praticamente odiato. Troppo diverso dalla serie originale, non era quello che i fan volevano, a tal punto che la stessa Takahashi ricevette delle pressioni tanto da arrivare a scollegare il film dal canonico. Con gli anni però, questa pellicola è diventata sempre più apprezzata, fino ad ascendere allo status di cult. E' pur vero che Oshii, oltre a Beautiful Dreamer, curò il film precedente Only You, un calvario con la produzione che gli chiese a più riprese di modificare la sceneggiatura, tanto che quando decise di stendere quella del secondo, si ripromise che avrebbe creato un lungometraggio il più individualmente possibile che rispecchiasse la sua visione creativa. L'aver deluso i fan era già stato messo in conto e col senno di poi nel mandarle a fare in culo da principio fece soltanto bene. Beautiful Dreamer è uno dei lavori di Oshii più apprezzati in assoluto dai suoi affezionati, siano appassionati di Lamu o semplicemente dell'animazione giapponese. Sfortunatamente, il risponso degli anni Ottanta sconsolò così tanto il regista che decise di abbandonare per sempre il soggetto della Takahashi, ma, in completa e totale onestà, questo suo secondo film abbasterà per ancora moltissimi anni. Che poi perché? Cosa avrà mai fatto di male il buon Mamoru per inimicarsi l'intero fandom dell'orchestra più amata della storia? Beh, ha fatto Inception sia molto meglio che con 22 anni d'anticipo. La storia si apre col proverbiale festival studentesco giapponese dove la gang sta allestendo un padiglione a tema bar nazista con Mendo, noto designer d'interni, che decide di far entrare chissà come il proprio carro armato Leopard in una classe al secondo piano. Mentre tutti stanno sgobbando in vista dell'evento imminente, come sempre Ataru, qui, tra parentesi doppiato dal compianto Paolo Torrisi nella sua performance della vita, se ne sta in panciolle sognando il resto del cast femminile, provocando, come al solito, l'ira funesta di Lamu. Ramanzina del preside, se ne tornano tutti a casa, senza però riuscirci. Incomincia così l'aspetto surreal della pellicola. L'unica che non risentirà assolutamente della situazione sarà Lamu che, fosse per lei, starebbero sempre tutti insieme a passare dei momenti piacevoli. Un pensiero molto dolce che getterà in un circolo vizioso e interminabile Tomobiki, se non l'intero pianeta. Lentamente, i giorni si accavalcheranno all'interno di una bolla, in uno scenario perfetto dove idealmente tutti sono felici e a nessuno mancherà nulla, potendo vivere soltanto nel contesto più spensierato e ricolmo di gioia possibile. Un sogno, nemmeno una favola, realizzato ad hoc per pura e semplice diligenza, di un folletto disilluso, frutto di una ricerca disperata di sogni che nascano e rimangano buoni senza mai mutare nel male. Ma d'altronde, chi meglio di una ragazza dello spazio può essere estranea alle contaminazioni tipiche degli umani, ma nel momento in cui entrano a contatto con quelli degli altri, possono collidere. Un sogno è la realtà, è la realtà, è il sogno. Chi mai potrebbe volersi svegliare dal proprio sogno perfetto per tornare indietro a una situazione che non riflette quel livello? Ma in quel caso diventerebbe una persecuzione, soprattutto nel momento in cui si ripetono. E in quel caso diventerebbe una gabbia, una prigione se vogliamo. Quindi cosa dovrebbe rimanere a conti fatti se non l'intenzione di voler andare avanti? Potrebbe quindi darsi che dei paletti possano aiutare a delimitare i nostri limiti, riconoscere cosa sia un sogno e comprendere quali mezzi si possano avere per raggiungerlo. I sogni tengono vivi, danno un senso e motivazione a un'esistenza che altrimenti sarebbe lo sbando. Creano un percorso immaginando nel mentre quello che dovrebbe accadere, ma la verità è che sognare fa sempre bene. Che sia un progetto futuro, l'incantarsi ai occhi aperti, focalizzando quel piccolo spazio che in fin dei conti possiamo chiamare casa, pensando a cosa il proprio mondo può essere. Cosa che non sarà mai semplice, non accadrà con uno schiocco di dita. Per questa ragione, per quanto individuali, i sogni possono creare connessioni incredibili, smuovere gli anfratti più reconditi di un individuo in quanto persona, facendogli fare i conti con se stesso. E questa sfera, come ha cercato di trasporre Oshii, è una spirala doppia allisse col concetto di amore.